Sono Manuel Frassinetti, titolare della tabaccheria in via del Perugino numero 2 a Modena e ho il piacere di presentarvi l'artista Meris Bompani. Si tratta di una serie di mosaici realizzati su tela, pittura e pietre incollate e colorate. Un tripudio di colori che porta a ricordi della fanciullezza e a momenti di spensieratezza.